Dalla ricerca Magic Nature nasce l'unguento H45, un concentrato di benessere estratto dalla natura. Questa formula esclusiva unisce 45 varietà di piante fiori essiccati e lavorati a freddo, selezionati per le loro proprietà benefiche. Tra gli ingredienti principali troverete la canfora, il limone, la melissa, il timo, il mentolo e molti altri. L'H45 è stato creato come un rimedio versatile per la cura e il sollievo da una vasta gamma di disturbi quotidiani, dal torcicollo alla sinusite, dalla cefalea all'emicrania, dalle contusioni al dolore muscolare, dalle gambe affaticate al mal di orecchio, dal raffreddore alla tosse, fino all'asma e al mal di denti. Modalità d'uso Massaggiate delicatamente l'unguento sulla zona interessata per assorbire pienamente i suoi effetti curativi. Con H45 potete dire addio a petrolati e parabeni, abbracciando una soluzione totalmente naturale. Provate l'efficacia di H45 e lasciatevi sorprendere dalla potenza della natura.